Può andare solo avanti. Sì. Che posto è questo? Un modo molto elaborato per nascondere il dannato tesoro. Da che parte andiamo? Aspetta un secondo. Ci sono dei numeri romani nell'angolo della mappa di Drake. Devono voler dire qualcosa. Io resterò qui di vedetta mentre tu cerchi un modo per passare. Questa può tornare utile. Sta succedendo qualcosa. Nate, sei stato tu? Le cose hanno iniziato a muoversi qui. Sì. 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 Sully, mi senti? Dannazione, niente! Dannazione, niente! Ehi, ce l'ho fatta! Ehi, attento, qualcosa non sembra tanto sicuro. Kate! Tutto bene! Sto 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 qui! Sto qui! Sto bene! Sto bene! Sto bene! Sto bene! Tu hai perso! Uccidete gli entrambi! Le cose vanno sempre meglio! Sto bene! 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 Oh no! Credo ci sia una specie di scala meccanica quassù. Lo vedo! 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 Nate? Lo vedo! Nate, sei pronto per andare? Lo vedo! Lo vedo!